Stiamo per presentarvi la CR, questa stanza misteriosa dove lavora Angelino e il retro DJ Maraglio. Venite con me, venite, forza, seguitemi. La CR, dotata delle più moderne tecnologie al mondo, è una sala dove scoprirete il meglio della radiofonia italiana. Questo è il corridoio che porta la CR, questa è la porta della CR. Signori, state entrando nella CR di Radio Bruno ed eccolo, il Maraglio, il retro DJ, fai vedere le catenazze. Una volta visto il Maraglio avete capito che la CR sta per Coglion Room, la stanza del coglione.